ah porco della madonna allora ragazzi mi domando e dico che cazzo mi veste a fare sei sale a bordo che mi veste a fare tutta bella e precisa con tanti buoni principi e poi mi scontraffacco cioè praticamente ah porco della madonna vado alle poste mi fa il direttore signora un po più piano faccia rumore cioè festrillo ha detto direttore ma parli che gesù cristo per le che me eppure i studiati sono detto vabbò andiamo avanti vai dalle poi a cazzo si chiama il comune a prendere la cosa per l'indifferenziata indifferenziatamente indifferenziati praticamente mi dice signora mi devi riportare quello rotto ma quello rotto le sfrandumate le murature le sfrandumate le sfrandumate le sfrandumate ma e te porco direi di dover riportare i pezzi se signora ma che ti riporti i pezzi solitate la munnezza solitata cioè l'immondizia la butto io penso allora che ha fatta da fare la denuncia ai vigili vigilaite e sono detto ma signori ma quante carte sprechete perciò ma certo è logico perché sennò che fanno comunque non c'è danno fatiato da fare la denuncia per la munnezza della munnezza pumardà lusecchie al faccio porco di una domanda per lusecchie ma io mi domando e dico no io che mi veste a fare il giorno che esca a fare per gli uffici siete una massa di non lo so c'è proprio c'è chi mi ti ingasta la casa mi dica fare le cose a me nel mio mondo io non devo uscire ecco non devo uscire per gli uffici cosa non ci inga esse partagisce a me no no ecco no non trovo le parole ecco non trovo le parole ciao